L'ordinanza per la pedonalizzazione del centro storico parte da stasera stabilendo un perimetro della zona traffico limitato imponendo il divieto di accesso in via Luigi Amabile all'intersezione con via Beato Alberico Crescitelli, in via Casale all'intersezione con piazza Garibaldi, in piazza Libertà all'intersezione con via Rifugio, in via Episcopio all'intersezione con via Clausura, in largo Trigio all'intersezione con via Decorate al Valor Civile, in corso Umberto I fino all'intersezione con via Sant'Antonio Abbate, in rampa Samodessino fino all'intersezione con la traversa del piazzale della Resistenza. Si istituisce uno senso unico con direzione di marcia in via Sant'Antonio Abbate, in via Decorate al Valor Civile, infine scatta l'obbligo di svolta a destra in via Decorate al Valor Civile e all'intersezione con via Sant'Antonio Abbate per i veicoli provenienti da via Clausura. A sinistra invece in corso Umberto I fino all'intersezione con via Sant'Antonio Abbate per i veicoli provenienti da piazza Castello. Il dispositivo trastorvegliato è sanzionato la Polizia Municipale nella prima fase durante la quale saranno completate dalla società municipalizzata ACS le operazioni di allestimento della segnaletica e della cartellonistica stradale stabiliti dalla legge. Successivamente, presumibilmente, entro massimo un mese scatterà il controllo meccanizzato con le telecamere. Il sistema si apprende e il più completo e performante tra quelli omologati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In grado infatti di rilevare il transito di veicoli, acquisire immagini, riconoscere automaticamente le targhe dei veicoli e gestire le procedure previste per il trattamento dei dati. A una percentuale di corretto riconoscimento superiore al 98%, la distanza effettiva tra il punto di ripresa e la targa supera i 24 metri con un'altissima risoluzione, quindi occhio alle multe.